Il programma politico del Pueblo Soberano è praticamente una cosa che non è presentato sempre in un formato, ma con un contenuto diverso. Il accordo di governazione del governo del missionario attuale è derivato dal programma politico del Pueblo Soberano che è in punto che il Pueblo Soberano è ammirato nel programma di governazione il governo, mentre ci sono 9 e 4 anni, durante 12 anni, è in punto che è in punto che è in punto che è in punto che è in punto non è in punto, non si sono in punto, non si stand in punto. Ma si non si sono in punto, ma si sono in punto che è più facile, ma si vedete e il programma politico, il programma completo di action, nel tempo partito al piano. lo hanno uno da me e accion soberano manetta bisikiden poverso verano su punto non di accion tabassare basso programma politico e carta di principio e sancu noti nos carta di principio mi te recomendaram a busco uno posetta sumamente importante paolo comprender e drive di poverso verano e funzione però principalmente è fondamentale di provocare il poverso verano basso il poverso verano e nove principi non soverano. Desarrolli non dopo il 10.10. la prova che il poverso verano abbia ragione di obiettare contro la legge del reino, perché la governazione dei nostri paesi è praticamente immobile per motivo di un'immagine di legge del reino. Il poverso verano ha reiterato che il suo compromesso con il votatore di no del ultimo referendo del 2009 che ha aspettato e espesato che il rispetto alla legge del reino. Il 48% dei votatori che guardano con interesse arriva il complimento del partito non politico che ha approbato la decisione del Consiglio Insular di settembre del 2010. La posizione del poverso verano è più forte che non è la defensa di nostra autonomia e libertà per decidere il nostro paese. Il mani di minerali e hidrocarburi è un fattore primordiale della politica del patrimonio del poverso verano. Il nostro paese è il nostro paese. Il nostro paese è il nostro paese. Il nostro paese è il nostro paese. Il nostro paese è il nostro paese di a loro. Il nostro paese è il nostro paese, ci sono nelle nostre paese di persone che hanno indietro delle persone, un po' inizia a un po' inizia a un po' inizia a un po' inizia, e un po' inizia. Il nostro paese si dovrebbe essere un po' inizia di integrazione. di Pueblo Aki, del nostro arreglo di Stato. Ma se che rato non si lo explica, il nostro arreglo di Stato che il Pueblo Severano a redactare, a confeccionare e a presentare, sta sumamente elementare nella fase Aki. La Unitur sta di accordo con il sistema di constelazione statale di nostro Paese. E il sistema di governazione Aki non si serve, è nota di una satisfacione e per colmo tambi, sta trece, oppi, frustrazione, irritazione e desestabilizzazione. Per Pueblo Soberano sta di condizione sine qua non per cambiare il nostro arreglo di Stato e è questo il progetto magno per Pueblo Soberano. La reforma Aki sta esencial e impostergabile, debile e inefficienza nel sistema attuale, con trece, inclarità, frustrazione e inestabilità. Il processo Aki, già ha cominciato nel governo anteriore e è imperativo cominciare e concluire il processo Aki. Cominciare Aki, stanno il punto di salita.